Ehi la ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale, rieccoci qui dopo tantissimo tempo con Construction Simulator 2 Pocket Edition. Dunque ragazzi, allora se vi ricordate nel secondo episodio abbiamo dato una piccola occhiata a quello che potrebbe essere il gioco, mentre quest'oggi invece ragazzi andiamo a prenderci un nuovo lavoro. Io ho fatto giusto qualcosina così ma non ho fatto poi chissà quanto ragazzi, anche perché comunque sia non avendo più il tempo adatto anche per poter portare giochi, per poter registrare eccetera eccetera, diciamo che li ho lasciati un attimino così un pochettino da parte eccetera eccetera. Dunque ragazzi allora innanzitutto fatemi vedere un attimino qui nelle impostazioni, mi sa che l'audio mi sa che dovrebbe essere un pochettino basso, fatemi vedere, dunque allora impostazioni, no volume e audio, no 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 è tutto quanto al massimo, forse magari sono diventato sordo io, non lo so. Comunque va bene dai ragazzi allora, ah no 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 ok 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 dai su si sente. Dunque ragazzi allora come potete ben notare abbiamo ben 113.000 crediti, non è che siano questi gran soldoni. Quindi vediamo un po' come possiamo gestire questi determinati tipi di soldi. Quindi innanzitutto ragazzi vediamo un po', andiamo qui nella mappa, abbiamo ben due cantieri da fare, però sicuramente saranno un bel po' troppo difficili, questo qua forse non tanto. Qui bisogna guidare un escavatore, va bene dai accettiamo questo qua. Ok perfetto senti questa, un picchiatello della zona sostiene di aver trovato una falda acquifera con la rabdomazia. Ok ci ha chiesto di scavare nel punto indicato per trovare l'acqua, io non ci credo ma un lavoro è un lavoro. Vabbè comunque ok guida l'escavatore. Dunque allora se andiamo qui in quattro possiamo arrivare direttamente, ah ok dai. Possiamo, madonna mia ma quanto mi ha fatto pagare questo mo' per poter arrivare a questo cantiere qua? Ma questo qua che roba è? Eh non lo so, aspetta ma è questo il cantiere? No il cantiere è quello, è praticamente alle nostre spalle. Era giusto tanto per cercare quantomeno di capire che cos'è che era quel coso. Dunque allora dobbiamo scavare qua nell'aria. Ho capito, ho capi... E niente, è inutile ragazzi, è inutile. Questo qua mi mette sempre le cose che non mi deve mettere. E quindi in questo modo mi fa sbandare completamente. Dunque allora prendiamo un attimino. Modalità funzione, va bene, ottimo. Sapete che cosa? Forse magari la webcam lì potrebbe andare bene? Non lo so ragazzi, fatemi sapere anche voi. Naturalmente ragazzi questo qui è il terzo episodio. Come detto ragazzi purtroppo non ho tempo di fare praticamente tutti i giochi perché mi richiede tanto tempo. Poi con diciamo tra virgolette il secondo lavoro che faccio non è che mi posso diciamo dilungare così tanto. Io quando ho una, magari una mezza giornata libera, allora magari mi prendo e mi faccio qualche episodio. Allora aspettate un attimo, facciamo così. Andiamo leggermente più avanti. Forse magari ci mettiamo anche un pochettino più sistemati a dovere. Ecco già qui ad esempio già potrebbe andare bene. No aspetta ho sbagliato io, scusate. E' però giovane, eh no mi sa che, mo sono un po' troppo lontano mi sa, eh. Mi sa che dobbiamo ritornare un pochettino, eh sì. Allora aspetta va, riposiziona. Ok, a posto. Sapete che cosa? Forse magari devo, devo vedere un pochettino anche la, la visuale, quindi la webcam. Cioè perché non ho capito per quale logico motivo queste qua mi sta a fare tutti sti gran scherzi qua, eh. Vabbè comunque, a parte ciò, lascia fare. A posto. Vai scarica qua. Un altro pochino ragazzi abbiamo finito. Eh vabbè stavolta non abbiamo preso un gran che di terra. Aspetta. Dai su scava scava, piglia, piglia. Allora sto, sto buco qua l'abbiamo fatto un pochettino, la che me ne frega. Tanto diciamo che comunque il, l'importante comunque sia scavarlo, no? Che poi o lo facciamo fatto bene o lo facciamo fatto male. Cioè voglio dire, no? Sempre quello ci deve dare. Voi che dite? Eh beh certo, non è che mi possono dare un gran che di soldi, anzi. Aspetta. Scarica qua. A posto. Scarica. Mi sa che mi devo spostare leggermente un pochettino più dietro. Perché vedete che questa qui non la vuole prendere. Ok, adesso sì. Dunque allora, come detto, mi devo spostare leggermente più... Più indietro. Oh scusate, più avanti. No, è troppo. Vai un po' più indietro. Ok, forse così potrebbe andare bene. Rimetti di qui. A posto. Ok, sì, adesso sì. Vabbè comunque, stiamo scavando un pochettino dove cavolo ci pare, però... Dai su, è rimasto un altro pochino da scavare. Su, su. Ok, a posto. Incarico completato. Dunque allora, libera l'aria, posizione del cantiere, va bene. Però aspetta, fammi scaricare questa qui. A posto. E dunque allora, lasciamo l'aria qua. A posto. Abbiamo fatto. Dopo qualche tempo scava l'aria, va bene. Allora, sfida padroneggiata, piccola impresa. Oh signori, ci aveva ragione. Voglio dire, no, abbiamo anche il... Il pozzo d'acqua. Va bene, va bene. Allora, dunque, abbiamo 155.000 crediti. Dunque allora, abbiamo... Un paio di cantieri. Allora, consegna dei materiali. Questo qua lo possiamo pure fare. Tanto comunque bisogna solamente accettare... Consegnare. Nel concessionario potrei noleggiare o comprare i mezzi che ti mancano. Questo comporterà coste aggiuntive. Vabbè, questo giovane già lo sapevo. Dunque allora, mi ha appena telefonato un amico imprenditore. Il suo camion ha un guasto al motore. Aiutiamolo con la rimozione della ghiaia avanzata da uno scavo. Così potrà proseguire i suoi lavori. Soldi facili, secondo me, ed è un buon lavoro. Pare che non dovremmo nemmeno ricaricarci. Ricaricarci? Beh, vediamo. Va bene, ok. Quindi guida... Aspetta, che devo guidare? Fammi capire. Il bulldozer. No, aspetta. Guida fino al cantiere e parcheggia il... Ah, il damper. Ok. Quindi il damper. Eccolo qua. Andiamo al cantiere. Sono sempre quanti? 500 dollari? Madonna mia, ma che è? Ma è fatto d'oro. Cioè, su Construction Simulator 2022, voglio dire, no? I costi di trasporto costano leggermente poco. Però qua mi costano una fortuna. Sì, ma scusate, ma chi è che me ricarica? Incarico completato, ok. Tutto qua. Dopo qualche tempo. Sempre dopo qualche tempo. Allora, porto il seguente mezzo alla posizione di destinazione. Posizione cava di ghiaia. Ok, perfetto. Quindi ci posso arrivare io direttamente così. Quindi se vado in 4. Sede concessionaria. Cava di ghiaia. Quanto mi costa invece il trasporto? 1000? Avvicinati in retromarcia alla buca e scarica. Va bene. Madonna, 1000 crediti? Cioè, ma questi signori sono pazzi. Sono pazzo di te. Allora, aspetta un attimo. Incarico completato. Ma me la scarichi tu? Svuota il mezzo, va bene. Che dite? Mi pagano? Svuotando questa. Mi dovrebbero pagare. Perché voglio dire, no? Abbiamo trasportato un po' di terra, un po' di roba. Però secondo me mi dovrebbero anche pagare. Qui puoi vendere tutti i materiali inerti. Scaricali nella buca. Ok. Incarico completato. Quanto mi ha dato? 2000. Ok. Vabbè. Allora, abbiamo 157.000. Dunque, arriviamo di nuovo in sede. Paghiamo sempre questi 500 dollari. Ah no, questa volta non mi ha fatto pagare nulla. Va bene. Dunque, allora, andiamo a salvare la partita, ragazzi. Perché non si può mai sapere. Anche se il gioco è preso da su Steam. Mi potrebbe anche, non lo so, magari crashare o robe del genere. Dunque, allora, vediamo un attimino. Abbiamo uno, due, tre cantieri. Facciamo... Di un memoriale per i posteri. Porta, scava, scava, scava. Ok. Allora, questo qui. Aia. Compattazione terra, grado 1. Betoniera. Getto il calcio e struzzo. Getto il calcio e struzzo. No. No, perché ragazzi, purtroppo, sapete che cosa? Perché ha veramente tanta roba dietro. E che dite? Vogliamo fare questa qui? Dai, su, accetta l'appalto. Scaviamo questa nuova buca. Va bene, va bene, va bene. Guida l'escavatore. Ok, d'accordo. Dammi l'escavatore. Andiamo direttamente al cantiere. Altri... Meno 500 dollaroni. Dunque, allora, scava l'aria. Segui... E niente, e niente. Cioè, ma io ho capito, ho capito. Basta, ma non vedi che mi fai fare? Mi fai fare i mega incidenti. E che cos'è? Vai, mettiti qui. E inizi a scavare quest'area, va. Aspetta. Ole. Allora, ottimo, è stato davvero un buon mese. Abbiamo realizzato un profitto di 83.000 crediti. Continua così. Devi pagare le spese ricorrenti messili per 13.000 dollari. Trova maggiori informazioni nella panoramica finanze. Ah, benissimo. Cioè, quindi... E quindi, e quindi, niente, signori. Siamo fregati. Cioè, siamo fregati. Dobbiamo comunque sia lavorare. Cioè, cercare di portare Erpani a casa. Va bene, va bene, comunque. Sono sempre soldi per noi. Pensavo che di soldi ne facevamo... Oddio, pensavo veramente che di soldi ne potevamo fare un bel po'. Però, visto e considerato che comunque sia, cioè, voglio dire, fare questi tipi di lavori non è che si guadagna tanto. Anzi, si guadagna tanto con lavori veramente molto, molto grossi. Allora, lì magari puoi guadagnare anche 3 milioni, 2 milioni, 1 milione, insomma. Quelli che siano. Però, al momento, ragazzi, non abbiamo così tantissime richieste. Madonna mia, ste cavolo di zanzare, ragazzi. Mi stanno facendo scippazzo. Eh sì, perché ogni tanto vengono, mi smangiucchiano così. Allora, scava. A posto. Dunque, allora, facciamo così. Riposizionati. E andiamo un pochettino più in avanti. Ok, a posto. Rimettiti come riprimi. Eh, niente. E dai, cioè, mi hanno smangiucchiato qui, perché sento, in pratica, che mi hanno smangiucchiato, perché mi viene, appunto, da grattare. E niente. Ok, bene, bene. Dunque, stiamo procedendo alla grandissima. Dai, però, devo dire, ragazzi, che questo Construction Simulator 2 è anche molto carino, eh, certo. Il 2022 è molto più avanzato rispetto a questo, eh. Ora, non vorrei dire, ma il 2022 è molto, molto più avanzato rispetto a questo. Sì, diciamo che questo qua è stato rilasciato per Android e tablet. Oddio, la grafica, ragazzi, è quella. Cioè, io più di tanto non posso modificarla. Cioè, non posso aumentarla più di tanto. E comunque, ragazzi, cioè, siamo sui 140 frame fissi al secondo, eh. Cioè, come ti muovi, ti muovi su questo gioco. Sono sempre quelli i frame, eh. Allora, giusto un altro pochino. Ne abbiamo terminato anche qui. Giusto un'altra puntina. Un apposto. Olè, apposto. Incarico completato. Vai, butta tutto. Va bene, ok. Però, aspetta, fammi svuotare il cucchiaino qua. Diciamo, tra virgolette, cucchiaino. Ma le luci? Ah, ok, le luci. Va bene. Lampeggianti anche. Olè. Vediamo un po'. Tacchete. Dopo qualche minuto facciamo una pausa e poi ci mettiamo al lavoro. Quindi, siamo di livello 3, eh. Ok, ragazzi, ok. Dunque, allora andiamo in sede. Riportiamo tutto quanto in sede. Che dite, ragazzi? Abbiamo 160 mila euro. Tra virgolette euro. Che dite? Vogliamo quasi quasi, non lo so, magari anche dare una mezza occhiata al concessionario. Magari vediamo un po'. Possiamo, non lo so, prenderci un mezzo. Allora, vediamo un po', ragazzi. Come mezzo mi volevo prendere, ad esempio, la betoniera. Però la betoniera, quanto mi costa? Allora, opzioni, acquista, 133 mila. Questa qui della Cat. Mentre abbiamo questa qui della Kenworth. Allora, Kenworth sicuramente mi costerà un botto. Ah no, 133 mila, anche questa. Oddio, ma veramente così poco costa? Oddio, la Kenworth è anche un'ottima marca di camion. Acquista, affitta al minuto, no, al minuto 400. Io, ragazzi, direi di aspettare, giusto un altro pochino. Magari possiamo arrivare anche più o meno a 200 mila crediti. Anche perché comunque, voglio dire, no? 200 mila crediti sono abbastanza come soldi. Abbiamo anche degli altri escavatori. Delle ruspe. Oddio, dei Cat, dei Bell, anche. Lieber, Cat. Oddio, abbiamo anche la pompa del calcestruzzo della Mech. Lieber. Il Cat come per spianare. Il Bulldozer, Lieber. Guarda qua, ammazza quanta Roma. Ma, sì, tra virgolette, ragazzi, è sempre la stessa cosa di Construction Simulator 2022, eh. Cioè, diciamo che i mezzi li hanno copiati proprio da lì. Dunque, allora, vediamo un po' che cos'è che abbiamo noi di già sbloccato. Allora, di sbloccato abbiamo la Lieber grua in piego di rapido L1. Il semirimorchio. Kenworth. Kenworth. Che mi costa qua. Ah no, aspettate. Kenworth. Kenworth. Non lo possiamo acquistare perché mi sa che già ne abbiamo uno. Allora, quello della Cat. Allora, questo qui è un CT660 8x6. Mentre questo qui è un T880 e HTM904. Allora, ragazzi, come detto, io direi quasi quasi di aspettare giusto un pochettino. Vediamo un po'. Possiamo saltare la notte? Fatemi dare un'occhiata. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Come detto, possiamo saltare la notte? Allora, sede concessionaria cava. Com'è che si faceva saltare la notte? Ripugni nel garage o no? E allora, F-seed che significa? Ah no, aspetta, eccolo qua. Pausa caffè. Olè. Perfetto, siamo arrivati al mattino dopo. Allora, vediamo un po', ragazzi. Vediamo un po'. Quali altri lavori possiamo fare? Io direi di fare sempre un lavoro, diciamo, tra virgolette, uno scava, dai e fai. Allora, vediamo un po'. Mappa. Allora, abbiamo uno, due e tre. Allora, questo qui che cos'è che dobbiamo fare? Consegnare i materiali. Allora, vai in retromarcia nell'aria. Allora, non hai ancora soddisfatto i teori che si dì? Trasporto materiali. Ah, cavolo. No. Quindi non possiamo fare nemmeno questo. Questo qui. Allora, aspetta. No, ma perché questo qua non lo posso fare, scusa? Di cosa abbiamo bisogno? Fatemi capire. Consegna materiali. Allora, accetta. Accetta. Trasporto materiali inerti. Vabbè, dai, accettiamolo, ragazzi. Cioè, perché se no... Madonna mia, guarda qua. Uno, due, tre morsi. Madonna mia. Sci loro. Dunque, allora, la notte scorsa è crollata una capita sotterranea nei paraggi, creando un... Dobbiamo trasportare... Va bene, ok. Quindi non ti preoccupare, ciccio. Ci penso io. Prendi il damper. Andiamo al cantiere. 500 dollari già così buttati. No, aspetta. Porta il seguente mezzo. Ah, mezzo di trasporto materiali inerti. E allora, riportalo qua in sede. Mi sa che dobbiamo andare al concessionario, però, eh. Dunque, allora, entra. Dunque, allora. Mi sa che dovrebbe... No, questo qua è per asfalto. Damper. Damper. Allora, damper. Mailer. Articolato. E allora, però, non ho capito che cosa è che mi chiede di fare il tipo. Allora, posizione cava di ghiaia. Mezzo di trasporto... Mezzo di tipo trasporto materiali inerti. Minimo grado 1. Imposta punto di passaggio. No. Però, aspettate. Quello che abbiamo noi... Credo che dovrebbe andare bene. Ah, no, aspetta. Ma noi dobbiamo andare praticamente... No, non lì. Non direttamente al cantiere. Mannaggia. Mi sa che noi dobbiamo andare praticamente... Allora, queste qua... Vabbè, sono le telecamere. Non mi interessano. Questo qui neanche. Dobbiamo andare alla cava di ghiaia. Dobbiamo recuperare la roba. Allora, per retromarcia... Ok. Signori, stiamo spendendo veramente un sacco di soldi. Ok. Dunque, allora, aspetta un attimo. Mettiti qua sotto. E inizio a riempire. Com'è che si riempie? Allora, perfetto. Ora riempio il mezzo tenendo premuto F. E... Cava di ghiaia... Eh, ma devo... Eh, no, aspetta. Ho capito che questa qui è la ca... Ho capito che questa qui è la... È la cava di ghiaia. Madonna mia, signori. Mi stanno a fare... Come un mostro. Mi stanno veramente a smoccicare... Come se non ci fosse un domani. Ah, aspetta. Non devo tenere premuto. Ok. Sì, vabbè, però, aspetta. Che me stai a combinarla, giovane? Me stai a fare la... La montagnella. Il pianale è pieno. Ok. Dunque, allora, riporto il damper al cantiere e parcheggio in retromarcia nell'aria evidenziata. Cantiere... Meno mille o duemila? Ottomila! Madonna mia, ma so veramente dei ladri. Cioè, ma so veramente, signori, dei ladri. Ma sicuramente non riusciremo nemmeno tanto a guadagnarli tutti quei soldi. Che devo fare? Procedi lentamente in retromarcia fino al bordo della buca e deposita tutto il carico. V per attivare la visualizzazione. No! E niente. Cioè, ma sarà estro. Insomma, perché cazzo me la fai vedere prima? Non me la devi far vedere prima sta cosa. E mo come ci esco io da qua? Cioè, ma dico io, no? Ho capito che io devo vedere dove cavolo è che devo scaricare. Però se tu vedi che io sto a fare retromarcia o sto andando avanti o sto andando indietro. Cioè, che motivo hai di attivarmi quella cavolo di roba? Aspetta, aspetta. Buo, 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 buona, buona. E niente. Ci siamo incastrati malamente di nuovo. E vabbè, vai. Io comunque mo te scarico. E no, e niente. Non riesco nemmeno tanto a scaricare tutto quanto qua. E niente. No, aspetta, restituisci. No, 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 no. Che restituisci? Aspetta. Rimetti di qua. Occhio, signori. Che vi investo malamente. Allora, aspetta un po'. Occhio, basta. Basta. Vai qui. Alza. Me la dovrebbe far scaricare tutta quanta. E niente. Mi sa che me ne serve ancora un altro po'. E andiamo a sta cavati ghiaia. E signori, me ne serve ancora un altro pochino. Eh sì, perché avete visto che praticamente l'abbiamo buttata dove cavolo ci pareva. Ok. Riempi. Quanto facciamo? Giusto un mezzo pieno? Magari vediamo quando arriva a metà. Un pochettino, un po' di più. Basta. Va, 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 va. Vabbè, va. Basta. Basta così. Sennò qua ci costa veramente l'ira di Dio. Aspetta. Meno 6.000. Andiamo al cantiere. E niente ragazzi. Meno male soltanto che volevo prendermi il nuovo mezzo là. Ma secondo me di sto passo... Di sto passo... Mo stava di di sto pasto. Di sto passo mi sa che... Non si cantano messe. Basta, basta, basta. E niente. Ok. Rialza qua tutto. Ma non me lo dà più come completato. Perché non me lo sta dando come completato? Ah, no, eh. Scusa, aspetta. Qual è il problema? Avanzamento dell'appalto. 100% 70% Eh, ragazzi. Mi sa che devo annullarlo. Devo annullarlo perché non ho capito per quale logico motivo non... Vabbè, comunque mi ha dato... 9.000 e pass... No, che 9.000? 480. E niente, ragazzi. Mi dispiace ma purtroppo non... Non me l'ha dato come... Come completato, insomma. Ecco. Ritorna la sede, va. E niente, ragazzi. Dai, allora. Arrivati a questo punto. Io direi di concludere qui questo nuovo episodio della serie di... Construction Simulator 2. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate. Mi raccomando, vi invito a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, condividere il video e noi ci becchiamo molto presto in un nuovo episodio. Dai, un saluto a tutti da Harry Doctor. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.